L'ex monastero delle Benedettine, la torre di San Giovanni e la chiesa di Santa Chiara sono i tre beni monumentali della cittadienna al centro del convegno, un patrimonio da valorizzare. Organizzato dal comune, dal FAI e dall'ordine degli architetti e che si terrà venerdì 10 gennaio nella chiesa di Santa Chiara alle ore 18. Interverranno oltre al sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, al capo delegazione FAI Enna Nietta Brune, al presidente dell'ordine degli architetti di Enna Antonino Rizza, la docente Renata Presce e gli architetti Roberta Russo e Giovanni Contino. La manifestazione che abbiamo organizzato è sempre nell'ambito dell'assessorato alla riqualificazione del patrimonio storico-monumentale e vuole porre l'attenzione nei confronti di queste tre emergenze architettoniche monumentali che sono il Palazzo delle Benedettine, la torre di San Giovanni e la chiesa di Santa Chiara. Chiaramente sono tre immobili di proprietà comunale e su due sono state elaborate delle tesi di laurea che sono lì esposte già all'interno della chiesa di Santa Chiara e chiaramente ha un taglio scientifico e convegno perché parla fondamentalmente del restauro e quindi la valorizzazione passa certamente attraverso il riutilizzo del bene, porta il bene stesso ad essere tutelato dall'incuria. Ci sarà infatti l'intervento della professoressa di restauro architettonico dell'Università di Palermo, poi parlerà anche l'architetto russo, la collega che ha fatto le due tesi di laurea. Parlerò pure io perché insieme abbiamo trattato il tema della torre di San Giovanni, annessa anche un ipotetico percorso delle torri che si potrebbe realizzare a Enna, sempre per fini turistici, visto la grande valenza storica.